In Porto di Porto Rosa c'è tanta confusione, tante barche. Ora seguiremo, ci faremo un pezzo di processione, accompagneremo la Madonna in mare. La processione è appena partita, ci uniamo e ci mettiamo in coda. Anche noi siamo in coda, procediamo. Tanto affollamento, vediamo se riescono a girare. Alla prossima 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 Alla prossima